Uno schifo, uno schifo di merda, quello che a me dà fastidio, sapete, io sono nel dubbio se incazzarmi o rassegnarmi, perché purtroppo quello che mi dà fastidio a me è che ci sono dei, adesso una fame allucinante per colpa di questa squadra di merda che bisogna guardare a mezzogiorno e mezzo per vedere uno schifo del genere. Perché non è un discorso, la giustificazione quale sarà? Eh, ma è fine campionato, c'è caldo, è mezzogiorno e mezzo, e poi cosa c'è? Qual è? Siamo ormai quasi qualificati in Champions perché all'andata cos'era? All'andata cos'era? Tu oggi hai vinto 2-1 per due angoli, due calci piazzati. Tu hai vinto per due calci piazzati e due gol di difensione centrale. Punto, punto. E contro l'ultimo in classifica non è concepibile, perché se voi andate, sapete bene, sono statistiche, uno ha commentato, ma dici sempre che le statistiche non vanno prese in considerazione, vanno contestualizzate, non prese in considerazione, cioè vanno messe per rafforzare la tua, diciamo, tesi. Punto. Non ovviamente sbattute lì. Siccome, guardate in Premio, ovviamente se uno ha una percentuale di possesso palla del 60% e poi perde, significa che ha zero organizzazione offensiva. Punto. Come è successo a noi contro Villareal? Eh, questo sicuramente. Però se voi andate a vedere in Premier League le squadre che vincono ovviamente, con il 60-70% di possesso palla, c'è il Chelsea che ha migliorato qualcosina quest'anno, ma non è che faccia dominio come City o Liverpool. Non prendiamo il City o Liverpool, prendiamo il Chelsea, prendiamo l'Arsenal. Contro squadre inferiori fanno il 65% di possesso palla almeno. Basta andare a vedere. Ovviamente condito con organizzazione offensiva, ma se non è un attore, come qualche anno fa, a Sky dice, eh, ma nel basket, tira fuori il discorso del basket, è una stronzata, perché proprio dove è più piccolo il campo, come calcetto, come calcio a 5, ok, come il futsal, lì conta molto di più la giocata individuale che in un campo, diciamo, di 70% o 110%. Certo, perché lì contano molto di più, dove c'è più spazio, contano più gli schemi che le giocate individuali. Certo che le giocate individuali sono qualcosa in più, ma se tu basi tutto solo sulle giocate individuali, parlando e dicendo che l'allenatore deve semplicemente mettere un'organizzazione difensiva decente, e ieri continui a ribadirmi sto concetto dicendo che prima della partita di Venezia, praticamente l'importante è non prendere gol domani contro Venezia. Questa è la sintesi della mentalità di merda. Quando si dice la società è provinciale la società, sono d'accordo, ma è provinciale quando... E l'esempio, l'emblema del fatto che sia provinciale è che prende questo allenatore qua, lo riprende questo allenatore qua, lo riprende, perché Allegri, sono sicuro, Allegri, Allegri non sa allenare. Cioè, c'è poco... Cioè, adesso uno dice, eh, ma non puoi dire... Non sa allenare nel senso che non sa insegnare calcio ai suoi. Questo intendo. Puoi sa gestire una squadra, la squadra più forte. Se lui, per vincere la Champions ad Allegri, cosa devi fare? Non dare una squadra che se la può giocare, ma la squadra più forte, nettamente più forte d'Europa. Questo devi fare. O a meno che non capiti che in un anno tutte le altre facciano cagare, fanno cagare, ok? Come è successo magari l'anno scorso, e poi tu vai avanti, come è successo per il Chelsea, e magicamente vincere la Champions. Solo così può vincere la Champions ad Allegri. Perché l'altro giorno, tra l'altro, sono stato ospite d'Arena Sportiva, ho parlato anche con Fulvio Colovati, e nonostante sia interista, ma io sono d'accordo su una cosa. Tutte le grandi squadre nella storia, tutte, tutte, e le grandi squadre non sono Atletico Madrid e Chelsea, tutte le grandi squadre nella storia hanno vinto le competizioni internazionali, non facendo lo stesso calcio, ma dominando. Punto. Questo è un dato di fatto. Che a voi piazza o non piazza. Una grande squadra deve dominare l'avversario. Perché noi quando affrontavamo Real, Barcellona, Bayern e quant'altro, da nettamente inferiori, cos'è che temevamo? Il fatto che loro avessero tanto possesso palla e tanta organizzazione offensiva, al di là dei singoli. Perché Allegri, per vincere la Champions, per avere praticamente quasi sicuramente la possibilità di vincere la Champions, devi costruire una squadra di 11 campioni più 4 campioni in panchina. Punto. Questo deve essere. Questa deve essere la squadra che dai ad Allegri per vincere la Champions. E non tutte le squadre, non tutti gli antoni, hanno avuto la fortuna di avere 11 campioni. Neanche Real Madrid. Real Madrid ha avuto 6-7 campioni sicuramente. Il Liverpool e il Bayern Monaco non ne parliamo perché di fatto quali sono i campioni del Liverpool e del Bayern Monaco? Ditemelo. Del Chelsea. Che lasciamo stare come ha vinto perché comunque è il calcio che sicuramente a me non piace e quant'altro. Però è l'eccezione infatti che conferma la regola. Perché se poi noi andiamo a vedere le Champions che hanno vinto Real, Barcellona, e poi si dice ma hanno avuto i campioni perché noi non li abbiamo avuti nella storia. No, ma hai avuto dei campioni gestiti da un allenatore simile a Allegri come Capello. Lippi è vero che ha perso, ma ti ha fatto 4 finali, una te l'ha portata a casa. E ci sono state altre squadre che hanno preso ad esempio la Juventus di Lippi. Non sento mai dire all'estero, dalle migliori europee, ho preso spunto dalla Juventus di Allegri. Tu fatalità, tra i 4 hai avuto Ancelotti che l'hai mandato a fanculo dopo 2 anni perché ha perso gli scudetti di fatto. Per questo l'hai mandato a fanculo. Perché poi lui è subentrato se non sbaglio a Lippi e quasi ti portava in finale. Poi è andato via da noi e ha vinto le Champions con il Milan. Ma va bene. Gli altri sono Lippi che ha vinto la Champions, ma comunque poteva vincere sicuramente di più. Le responsabilità sue ci sono sicuramente, ma la famiglia Agnelli sappiamo benissimo che ha sempre messo come primo obiettivo lo scudetto. E questo problema c'è dai tempi dell'avvocato, non solo dai tempi di Andrea Agnelli. Anche dai tempi dell'avvocato, solo che Gianni Agnelli quantomeno rispettava il tifo più passionale. Ecco, quello bisogna sottolineare. Poi per il resto, per il resto ragazzi, Trappatoni, lasciamo stare l'85, Trappatoni che non faceva sicuramente un calcio propositivo, ha perso probabilmente la finale più scandalosa della storia contro l'Hamburgo. Capello non ha passato i quarti di finale, eliminato da Liverpool e Arsenal che poi sono andati in finale. E Liverpool ha vinto la Champions. Allegri ha perso dei finali contro due squadre forti, non ho mai dato la principale responsabilità a lui, sia chiaro, però siamo arrivati sempre in quelle finali con il vanto della miglior difesa e poi ha preso sette gol in due finali. L'unica squadra a perdere in finale per 4-1 nei tempi regolamentari. È andato di fatto o no? E poi esci... A me non dà un fastidio tanto le finali, quanto il fatto che poi, quando non ci sono state le spagnole, sei uscito prima. Trasciamo questi ultimi due anni anche con l'Ajax, Allegri. Cos'è che ha fatto? Due partite di merda. Due partite di merda ha fatto. Ma oggi, ragazzi, è una roba scandalosa. Cioè, bisogna avere i giocatori forti, i campioni anche per... Non battere Venezia, attenzione, non battere Venezia. Fare una prestazione degna di nota. Fare una prestazione da grande squadra. Bisogna avere anche là i grandi giocatori. Il problema è poi i tifosi nostri. Quando si sopravvalutava Matuidi, Kedira, Pjanic, lì mi incazzavo, perché erano giocatori sopravvalutati. Tutti li pompavano, poi andavano in Europa contro gli altri centrocampi e facevano cagare al cazzo. È andato di fatto. Poi però si snobbava, si sminuiva, cancello perché non sapeva difendere e lui ti dava qualità. Quando si dice che le altre squadre hanno giocatori di qualità, però poi voi siete stati i primi ad esaltare i giocatori con poca qualità e a mandare a fanculo i giocatori con tanta qualità, non rompette il cazzo, perché il fatto che non si vinca la Champions è anche colpa vostra, della vostra mentalità perdente di merda, provinciale, basata sul fisico, sulla resistenza, sulla corsa, sulla lotta, zero qualità, zero propositività e tanta sofferenza in difesa. Questa è la vostra mentalità che si sposa con Agnelli, con la società nostra e con l'allenatore che abbiamo. E con questa mentalità qui, salvo miracoli, la Champions non la vedrai mai. Ma la mentalità deve cambiare prima di tutto dai tifosi. Dai tifosi deve cambiare. Dio mio, Dio mio. Io veramente... Cioè Allegri è uscito contro Villareal, faccio questo esempio qua. Allegri è uscito contro Villareal, ok. Ho visto un casino di tifosi allegriani che l'hanno difeso, tutelato. Tutti i tifosi del Bayern Monaco hanno massacrato sportivamente il Nuggetsman. Dopo l'uscita del Bayern Monaco contro Villareal. Eh, ma il Bayern Monaco è la squadra provincia del Champions, non conta quello. Tu devi avere la squadra più forte del Villareal, come il Bayern più forte del Villareal. Eh, conta quello. E qua, fino a che si esalteranno i giocatori come Rabiot, eh, ma corre, recupera, strappa. Non me ne frega un cazzo del fatto che strappi, non me ne frega un cazzo del fatto che recupera palloni, se poi, tecnicamente, negli ultimi 30 metri sbaglia tutte le scelte. Blauvi, c'è un altro giocatore che dico da gennaio che tecnicamente, ragazzi, l'avete pompato, portato in alto. Lui diventerà un ottimo finalizzatore, ve lo dico qua. Il prossimo anno farà sicuramente meglio. Ma non è un giocatore tecnico. Non è un giocatore tecnico a livello collettivo. Non è un giocatore che ti fa... Non è Ligue 1 di turno. Magari avrà più personalità, me lo auguro. Una vergogna. La prestazione di oggi, una vergogna. Al di là che tu abbia vinto, non me ne frega un cazzo della vittoria. Io guardo soprattutto le prestazioni, soprattutto contro queste squadre qua, che è l'ultima in classifica. L'ultima in classifica e fai una prestazione del genere tra andata e ritorno. E quando si dice, ma l'andata hai pareggiato perché non c'era Vlaovic. Non avevi Vlaovic, avevi Morata davanti, che ha fatto gol tra l'altro. Morata, al ritorno hai vinto 2-1, sì, ma con due gol di un difensore centrale su due calci piazzati. Non è che Vlaovic abbia fatto chissà che partita oggi. L'attacco è stato inesistente. Di Bala, come sempre, esce quando la squadra va già bene, perché è uscito, ha fatto qualcosina di meglio, sì, di meglio, insomma, quando la Juventus è andata già in vantaggio su 2-1. Non si riesce mai a prendere la squadra sulle spalle. Poi, ripeto, Di Bala è questo. Poi il solito 4-4-2 ibrido e poi la difesa 5 contro Venezia. Lei vi Vlaovic dentro e mette i chiellini. Ma dove cazzo vogliamo andare? Lui userebbe sta mentalità qui, anche avesse i campioni, ve lo dico qua, ve lo sottoscrivo qui. Poi vincerebbe, vincerebbe sì, perché i giocatori di qualità come Ancelotti ha i Benzema di Tuno e quant'altro. Ma se fosse così logica che con i campioni è uguale vittoria, ok, il Real Madrid avrebbe 6 Champions di fila. Invece ha vinto nel frattempo il Liverpool, il Bayern Monaco, il Chelsea. L'anno scorso è arrivato in semifinali anche l'anno scorso il Real Madrid. E poi è uscito col Chelsea. Non significa che vince la squadra sempre che ha i campioni, no? Perché se no il Real Madrid vincerebbe, cioè il Barcellona e il Real Madrid vincerebbero loro due da 10 anni di fila. Senza altre squadre in mezzo. Invece conta probabilmente qualcos'altro. Che dà qualche altro allenatore. Che non è una squadra di fenomeni, ma dà un qualcosa di suo. Cosa che Allegri non riesce a dare. Probabilmente in questo momento ne ha Cancelotti, dato che viene criticato a Madrid. Però al dia di questo, Allegri non riesce a dare, non è mai riuscito a dare. Bravo a gestire, ripeto, scuole già fatte. Forti. Le più forti in Italia. Bravissimo. Quello, dettagli, dare la calma, la tranquillità. Per carità. Sistemare i dettagli. Le sostituzioni quando aveva le ricerche. Per carità, per carità. Ma non riesce a dare un qualcosa di suo. Non riesce a insegnare calcio. Ed è per questo che preferirò a lui sempre gente come Klopp. Sempre gente come Guardiola. Sempre gente anche come Tenag. Piccola nota su Miglietti. Ottima partita. Attenzione a esaltarlo. Perché era il Venezia. Per questo io dico. Questi giovani qua vanno messi. Non evitare le pressioni. È una stronzata quando si dice. Non bisogna mettere il giovane in quella partita specifica perché è sotto pressione. No. Invece lo alleni alle pressioni così. Perché è troppo facile poi fare una partita contro Venezia. Che praticamente anche se non avessi vinto oggi sicuramente sarei stato quarto o andato quarto. Non è infatti quello che a me. Fa incazzare. È che all'inizio dell'anno avevo detto. I miei giudizi andranno non sui risultati anche qualora arrivasse il quinto. Ma sulle prestazioni che mi daranno. Che mi potranno dare un qualcosa per il futuro. E a tre giornate alla fine perché questa è passata. Allegri non ha dato un cazzo. Non ha dato un emerito cazzo. Prossimente ha dato qualcosa in più Pirlo nelle ultime quattro partite l'anno scorso. Ma sapete millissimo Allegri per me è meglio di Pirlo. C'è chiaro. Ma anche meglio di Sarri. Però ci sono stati certi allenatori che sono stati massacrati alla prima stagione. E non si è dato un'altra opportunità. E c'è stato un allenatore che è il privilegiato. Perché Allegri è il privilegiato. C'è chi magari nel mondo del calcio è raccomandato. C'è chi è privilegiato. E Massimiliano Allegri è privilegiato da questa società. E da questo allenatore e da molti tifosi purtroppo. E fino a che si ragionerà così. Ho visto anche di bala, cartelloni. Lo stadio nostro. Lo stadio nostro. Stadio. Il teatro nostro è diventato come il teatro degli Stati Uniti. Con gente che tira fuori i cartelloni pro tesserati. Con qualcuno, con qualche gruppo che sopra cerca di cantare. Che poi fanno gli sboroni. Lo stadio nostro, il teatro nostro fa lo sborone. Contro i tifosi del Venezia. Tornerete in biche. Tra andate e ritorno il Venezia. Non dico che ti ha fatto un culo così. Però ti ha messo molto in difficoltà. Molto in difficoltà. E fate gli sboroni contro i tifosi del Venezia. Ma dovete solo vergognarvi. Di aver visto e fatto una prestazione del genere. L'ho detto ieri in live. Dalla parte mi incazzo come oggi. Dall'altra mi rassegno perché spero soltanto che questi due, tre, quattro anni di Allegri con lo stesso Agnelli. Perché io spero che Agnelli se ne vada anche lui il primo possibile. Dopo il discorso Superlega e quant'altro. Se si farà o meno spero se ne vada. Spero solo che passino velocemente questi due, tre, quattro anni di Allegri. Perché io non ne posso già più sinceramente. E non è un discorso di tifare. Eh ma vai a tifare altre squadre. No, proprio perché io voglio il bene, il massimo per la mia squadra. Dopo 38, scusate, io pretendo e devo pretendere da Gobbo, da tifoso Gobbo, che la Juventus, la Juventus, cazzo, mi dia qualcosa di più importante. A quello che è più importante per un club. Dato che siamo la squadra che è più vincente nei quattro campionati principali. Ok? A livello di trofei nazionali, di campionati. Io, probabilmente, amo la Juventus più di molti di voi che invece la difendono sempre, la esaltano sempre, difendono tutti i tesserati. Io pretendo il massimo della mia squadra. Perché dopo un certo tot di anni che l'ho difesa pure io, la sticella va alzata da veri tifosi. E solo gli stupidi non cambiano mai idea. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.